a tutte le unità stiamo cercando due potenziali ladri di origine albanese agiscono in coppia, hanno appena svaleggiato tutte le case della via servono rinforzi immediati guarda lì c'è una mercedes, fermiamola fatelo, ce la sono i calabinieri, ce la vedono con macchina arrombata fatelo, siamo ricercati, se vedono che siamo albanesi è finita fatti venire in mente qualcosa buongiorno uè birla, aperitivo in centro? come prego? mi sono del mio figa si io nigeriano congolese oh mia bella madonina che te brilli da lontano mi hai convinto tantissimo patente e libretto subito surbrambilla? mi sono dimenticato ma che surbrambilla? comunque io sono del sud uè uè forza Napoli, tiè ora è anche napoletano, capito? non ti preoccupare voglio, c'è sta a mare fuori si dai nove cattillo, patente subito ceranciulata, testina non è che voi due siete i sospettati che stiamo cercando? ma vada via il chiu ma come si permette? scusa, pirla pirla sarete voi allora voi ci date subito i documenti o venite con noi in caserma dai su de dos che dobbiamo andare a fatturare collega si? è arrivato il momento dell'inganno della cadrega signori che ne dite? ci spostiamo su una bella cadrega? su cadrega, si serva, prenda pure una bella cadrega una cadrega non si rifiuta nessuno ehm.. ecco quindi non sapete cos'è? ahhh 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 no fermi fermi agente dove vado? di là di là vada vada ma che fa? ma che fa? ma hai dato una botta nei coglioni ma che combina? collega i Pantellas commentate, condividete e iscrivetevi al canale ciao